C'era un tempo in cui i figli ereditavano dai padri non solo i geni, ma il loro mestiere, la loro vita. E fu così, finché un giorno un padre ruppe gli schemi, disse al figlio che poteva scegliere cosa fare, perché la sua vita seguisse un corso differente. In ogni storia ci sono sempre un prima e un dopo. Ed è lì, tra il prima e il dopo, che qualcuno cambia il nostro futuro. Ispirandoci a tutte quelle persone che con le loro scelte hanno reso la nostra vita ancora più libera, abbiamo creato Sky On Demand. Una videoteca tutta tua, gratis, da vedere quando vuoi, che tiene conto dei tuoi desideri, delle tue esigenze e del tuo tempo. Sky On Demand. Il futuro davanti ai tuoi occhi.